Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Giulio Perrone, editore, dal titolo Umana Cosa, approssimazione di genere al Decameron, di Monica Cristina Storini, che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite, alla quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante volume. Prego, a lei. Grazie moltissimo, grazie dell'invito, grazie a tutti voi e buonasera. Dunque, diciamo che c'è un'idea all'origine nella quale è incappato anche Boccaccio, e cioè l'idea originaria era di riflettere sul fatto che le questioni legate all'identità e al genere, indipendentemente, diciamo, dal secolo in cui il testo è stato prodotto, sono necessariamente presenti perché sono un elemento costitutivo dell'identità umana e quindi, in quanto tale, si può cercare di vedere quelli che ne sono gli aspetti, le declinazioni fondamentali, anche in testi che non appartengono, diciamo così, alla modernità più vicino a noi che questa categoria abbiamo introdotto. Quindi, l'idea era di vedere un pochino come la letteratura ci aiutasse a comprendere le modalità con cui, nel corso dei secoli, la letteratura ha utilizzato, trasformato, talvolta prodotto degli stereotipi, delle immagini legate all'identità di genere e poi si sono trasmessi nel corso del tempo. La scelta di Boccaccio è legata, invece, molto alla mia soggettività, cioè al fatto che l'autore su cui mi sono laureato ormai troppo tempo fa e che ha costituito sempre un po', come dire, la colonna vertebrale di tutti i miei interessi, anche dei miei interessi da contemporaneista o da modernista. E quindi era un desiderio di vedere se anche il modo con cui Boccaccio presentava il maschile, il femminile, i rapporti di potere fra questi, non soltanto, diciamo così, i ruoli e i valori legati al femminile, ma anche quelli legati al maschile, il modo, dicevo, in cui Boccaccio rappresentasse tutto questo ci dicesse qualcosa del modo con cui noi oggi, appunto, ancora guardiamo a quest'identità il modo in cui la letteratura più contemporanea ce lo racconta. E per fare questo sono partita da una riflessione molto semplice che è contenuta nel proemio, e cioè appunto l'idea che al centro, diciamo, degli interessi dei camerognani c'è esattamente l'umana cosa, no? Quindi quel piccolo dittico di termini che costituisce proprio l'incipit umana cosa è aver compassione degli afflitti, recita proprio l'inizio del proemio dei camerognano. Ma l'umano è qualcosa che ha a che fare portemente con la propria identità e con la propria identità di genere. Dunque l'attenzione principale è stata quella di vedere in che maniera questa umanità, banalmente, si declinasse nelle forme dei generi all'interno dei gender, cioè dell'identità appunto di genere all'interno del decamero. L'altro elemento che ha contribuito, diciamo, ad impostare questo lavoro è stato quello di chiedersi ma nella varietà delle tematiche, delle forme che noi troviamo all'interno di questo capolavoro boccacciano, quale può essere il tema nel quale questa attenzione al maschile e al femminile può risultare più evidente o può essere più semplice, no? Detto proprio banalmente, analizzare e declinare nello studio. Allora, la mia idea è stata quella di andare ad indagare un tema tradizionalissimo che è il tema della fortuna, il tema del caso in qualche misura perché il decameron è appunto, come dire, sconvolto, il contesto che ci viene presentato è sconvolto da una casualità che è quella della peste che, come Boccaccio stesso ci dice, va ad intaccare proprio la radice con cui maschile, femminile e potere si declina nella società contemporanea. Ricordo quei magnifici passaggi dell'introduzione alla prima giornata in cui appunto Boccaccio descrive come tutti i ruoli tradizionalmente appartenenti al maschile ruolo di potere, di rispetto padre e figlio o al femminile ruolo di mogli, di cura, di accudimento vengono meno, sono distrutti dalla, come dire, dalla paura, diremmo noi ma delle circostanze tremende che la peste scatene. Dunque, la casualità che ha fatto arrivare la peste evidentemente va ad intaccare quella che è la compattezza dell'essere umano così come si era definito fino a quel momento secondo, diciamo, quindi i ruoli, i compiti, i valori che si è dato. Quindi l'idea è ma se questo avviene per la circostanza principale che costituisce il testo è possibile che venga poi riflessa e declinata anche all'interno delle cosiddette novelle di fortuna o novelle di avventura che vogliamo dire che poi sono tradizionalmente considerate come a parte qualche piccola eccezione le più scadenti da parte della critica e invece forse non sarà che in questa parte del decamero si esplica una riflessione molto profonda su ciò che l'umano affronta deve affrontare divine e si muta, diciamo, nell'evento della fortuna. Quindi da queste due, diciamo così, direttive principali e scende un po' il piccolo lavoro che ho cercato di fare di mettere insieme. Questo lavoro, diciamo, si organizza intorno a tre nuclei fondamentali. Allora, il primo nucleo è più, diciamo, esplorativo e mette insieme quelle che sono considerate tradizionalmente le caratteristiche fondamentali del decamero prima di andare a vedere come questi temi legati al genere la fortuna che dicevo si declinino poi nel testo e cioè il rapporto che il testo ha con la parola quindi il potere straordinario che Boccaccio dà alla parola parola che si, diciamo, manifesta nelle sue potenzialità attraverso, certo, la narrazione dei singoli novellatori ma che anche viene utilizzata in maniera, in forme diverse da molti personaggi e spesso diventa uno strumento risolutivo. È solo il modo in cui si sa organizzare un discorso che a volte salva molti protagonisti. Quindi la parola è un elemento identitario fondamentale. Saperla utilizzare, non saperla utilizzare, comprendere la parola con cui gli altri si presentano o ci offendono o ci attaccano o ci aiutano è fondamentale per uscire fuori dalle diverse situazioni in cui ci troviamo. Quindi la parola è fondamentale e, diciamo, è fondamentale anche in quella che probabilmente, secondo quanto Boccaccio stesso ci dice nel programma del decamero, è la sua funzione principale che è quella di amministrare compassio, compassione, aiutare nel senso di dare quel sostegno diciamo così psicologico, forse oggi noi diremmo molto banalmente, mi si perdoni la rapidità, a chi è in necessità, in chi ha bisogno appunto del supporto perché sta soffrendo una determinata condizione. Sappiamo che per Boccaccio questa condizione è la sofferenza d'amore, però potremmo anche estenderla con le altre narrazioni del decamero che ci dicono che si soffre per diverse situazioni e spesso la narrazione di qualcuno, la parola di qualcuno ci aiuta non certo a eliminare la sofferenza ma a passare il tempo necessario perché la sofferenza diminuisca. Quindi, diciamo, è uno strumento che traghetta in qualche modo, cioè porta da un punto A a un punto B, da un tempo A a un tempo B. Quindi la parola è, diciamo, lo strumento e la manifestazione fondamentale della compassio che appunto è l'umana cosa che è all'inizio del decamero. E questa compassione molto spesso è nelle mani naturalmente degli amici, ci dice il decamero, ci dice Boccaccio nel premio del decamero, ma in molte novelle è anche nelle mani del femminile. Il femminile agisce questa compassione e qui probabilmente possiamo pensare che sotto questo modello ci sia la Didone virgiliana, no? Virgilio dice di Didone nel sesto libro dell'Eneide non ignara ma lì miserere succurre redisco, cioè poiché ho provato il male, sono solito aiutare che ha bisogno di compassione, appunto, i miserevoli, gli infelici. Quindi anche Didone, che dà certo un supporto materiale a Enea e ai suoi vagabondi, compagni, però nello stesso tempo si fa raccontare da Enea. Quindi la sua parola, diciamo, di Enea entra in contatto con la parola di Didone che lo consola di quello che ha sofferto. E in quale situazione dunque consola? La parola consola appunto nella sofferenza e consola anche nelle situazioni di sofferenza determinate dalla fortuna. E quindi al centro, diciamo, c'è un'interazione, potremmo dire una triangolazione per cui la parola funziona da compassione spesso quando la fortuna mette in condizioni di sofferenza e di disagio. Sondato questo elemento della parola e visti alcuni passaggi, diciamo, in cui la ministra di Dio viene presentata la fortuna, secondo la definizione di Dante Alighieri, autore carissimo a Boccaccio, mi soffermo su alcuni modelli, diciamo, che costituiscono elementi esemplari di come la parola possa essere usata. Da una parte il famosissimo esempio di Alatiel, sono tutte novelle molto famose. Alatiel che appunto la fortuna, e lo dice proprio questo termine, Boccaccio, la balestra, cioè dopo un naufragio, la fa approdare su una terra in cui è sola, è abbandonata, non conosce il linguaggio, quindi gli manca proprio quella parola che invece deve riuscire a recuperare. Tutte le peripezie che ella subisce, tutti gli uomini con cui è costretta a stare, sono, come dire, dei rapporti che si basano esclusivamente sul linguaggio del corpo, perché Alatiel non possiede il linguaggio della parola, non conosce la lingua degli uomini che abusano di lei. Soltanto quando incontrerà qualcuno che potrà fare da mediatore fra lei e il mondo esterno e che le insegnerà come raccontare la vicenda che ha subito, potrà rientrare nella sua corte, essendo figlia del soldano di Babilonia, come se fosse una fanciulla, una pulzella. Questo è possibile perché impara a declinare il racconto come finzione, ma anche come scamotage di salvezza. Qui la parola è proprio lo strumento per il reinserimento felice e gioioso nella società d'appartenenza. Quindi è una parola che costruisce, costruisce di nuovo un'identità, rende ad Alatiel l'identità originaria aggiungendole l'esperienza del saper raccontare nel modo che è giusto. Alatiel quindi è un femminile che soggiace un maschile che possiede la parola ed è un femminile che è privato a lungo della parola. Quando questi due elementi si rincrociano, la parola torna al femminile, potrà rientrare nella propria identità. Poi ci sono anche altri due stereotipi molto interessanti da questo punto di vista. Quella a cui sono più affezionata è quella di Federico degli Alberighi, che è la nonna novella della Quinta Giornata. Federico degli Alberighi incarna pienamente quello che potremmo dire, definire, il cavaliere cortese, è l'amante cortese per eccellenza. Fino alla fine applica il maschile che il, possiamo dire brutalmente, il de amore di Andrea Cappellano è inserito nella cultura contemporanea. Quindi il maschile che agisce in un certo modo, che deve soddisfare i desideri dell'amata, che naturalmente innamorato esprime tutte le migliori qualità, la generosità, l'affetto per gli altri, eccetera, eccetera, e che però, dice Boccaccio, in questa sua ostinazione, potremmo dire così, a incarnare fino in fondo il maschile, così come era stato canonizzato dalla tradizione stilnovistica o del de amore di Andrea Cappellano, finisce per immiserire, per diventare poverissimo. Ed è messo dalla fortuna, in questo caso, il termine che utilizza probabilmente Boccaccio a fortuna nella condizione di una povertà tale da non poter soddisfare l'ultimo e unico grande desiderio che la donna amata gli richiede. Perché le sacrifica, non avendo più nulla da dargli da mangiare all'amata che lo viene a trovare, gli sacrifica il suo falcone. Ma l'amata, che si chiama Giovanna, aveva proprio bisogno di quel falcone, perché il suo figlio piccolo si era invaguito del falcone, si era ammalato per non averlo potuto avere. E purtroppo Federico si trova in questa, diciamo, lo stereotipo dell'amante cortese lo incastra in questa situazione terrificante, per cui lui per ottemperare, per fare onore alla donna che è venuta a trovarla e che lui ama, gli regala l'unico bene, l'ultimo bene che gli è rimasto, questo straordinario falcone da caccia, e però non è in grado di esaudire il desiderio della donna che quel falcone avrebbe voluto. La fortuna mette, come si può dire, Federico al confine della impossibilità di ottemperare al codice con il codice stesso. Quindi è in qualche modo come se Boccaccio denunciasse il fallimento di questo modello. E qual è il modello che gli contrappone? Qual'identità assume Federico nel momento in cui gli è sottratta l'unica identità che era in grado di assumere su di sé? Quella di un miglior massaio fatto, nel senso che Giovanna, rimasta vedo, appunto, è vittima, Giovanna era la donna di cui era innamorata Federico, vittima delle insistenze dei fratelli, perché si risposi decide di sposare Federico anche se non lo ama. Perché? Perché Federico gli ha dimostrato di essere miglior uomo e preferisce un uomo migliore che un uomo ricco. Quindi assistiamo a una cosa molto interessante che è il femminile a consentire al maschile di raggiungere il proprio desiderio. Quindi Giovanna in qualche modo soddisfa il desiderio fondamentale di Federico che era quello di sposare Giovanna stessa senza essere innamorata. Quindi lo fa solo per cedere all'altro stereotipo che è quello del controllo maschile sul femminile, il controllo maschile dei fratelli che gli impongono ti devi assolutamente sposare. Nello stesso tempo però Federico impara a comportarsi da buon borghese, quindi non più aristocratico come era prima, non più il modello del cavaliere aristocratico che non si preoccupa di sperperare il proprio denaro, ma il buon mercante borghese che sa amministrare il patrimonio proprio che è quello di Giovanna perché lui è povero e non ne ha più. Quindi dice Boccaccio miglior massaio fatto. Questo è proprio l'esempio di come entrino in contraddizione due modelli del maschile, il maschile aristocratico e il maschile mercantile e come la mediazione tra questi due modelli è possibile perché interviene un femminile a consentire il passaggio dall'uno all'altro, cioè consentire a Federico di maturare potremmo dire noi di crescere perché è vista positivamente il raggiungimento della condizione mercantile di crescere dentro una nuova forma di ricchezza. Allora muovendo da questo scenario in cui abbiamo il maschile aristocratico il maschile mercantile la donna che muove si muove fra questi due la donna che impara ad utilizzare la parola che avevo visto come la Tiel il secondo nucleo forte del lavoro consiste proprio in una disamina legato alla fortuna all'essico della fortuna quali sono i termini che Boccaccio utilizza per definire appunto l'azione della fortuna l'intervento della fortuna il caso quali sono le presenze quali sono le assenze e c'è una parte appunto proprio dedicata numericamente alla quantità di termini avventura avventura avventuroso caso sorte che compaiono all'interno del decamero con una riflessione questa abbastanza interessante sull'assenza totale di un termine che forse noi invece ci aspetteremmo di trovare che è quello di destino Boccaccio non usa mai il termine destino nonostante conosca il termine perché destino è naturalmente nella divina commedia quindi sappiamo che Boccaccio è stato uno dei primi dantisti è un biografo di Dante che ha copiato a mano la divina commedia e l'ha regalata a Petrarca che non è stato per niente felice però insomma è proprio un grande studioso e conoscitore di Dante quindi conosce il termine ma Boccaccio non lo usa preferisce usare costantemente il termine o di caso quindi indicare proprio laicamente quello che noi chiamiamo destino cioè l'avvenimento laico o quello di fortuna allora il problema è ma la fortuna è intesa come è intesa come la intende Dante cioè la punto ministra di Dio no la provvidenza ci dice Dante nel sesto dell'inferno utilizza la fortuna per innalzare ed abbassare gli uomini il di grado in modo da farli capire come i beni mondani siano volubili però è appunto qualcosa una forza anzi un'intelligenza angelica dice propriamente Dante che segue la volontà divina quindi è Dio che la muove no e che la la manda ad abbassare o di innalzare diremmo brutalmente ecco di questo Boccaccio sembra aver piuttosto conservato l'idea di volubilità cioè l'idea di come il caso e la sorte sottolini che la condizione umana è una condizione mobile e questo per noi è molto importante cioè questo vuol dire che le identità non sono fisse noi oggi lo sappiamo che è così quindi Boccaccio già intuisce che le identità si modificano perché sono mobili sono volubili sono mosse dal quello che noi chiameremo il destino e che lui invece chiama la contingenza appunto del caso quindi sebbene conservi spesso la figurazione diciamo così della fortuna con la F maiuscola quindi come forza diciamo così divina ma non propriamente discendente dal Dio cristiano però la visione di Boccaccio è laica e quindi è legata più che altro in un'idea di contingenza quindi le cose accadono contingut accadono per per forza di cose e il concetto fondamentale che introduce e che è abbastanza interessante è quello di peccato della fortuna la fortuna commette un peccato spesso nei confronti degli esseri umani che non è tanto nel contrastare gli amanti come nella tradizione precedente a Boccaccio spesso la fortuna è invidiosa della felicità degli amanti e quindi interviene combinando qualche cosa facendoli scoprire oppure esponendolo al rischio della morte eccetera non è tanto questo anche seppure questo motivo è presente quanto piuttosto la constatazione che spesso la fortuna che è la seconda forza insieme alla natura lui lo dice proprio nella sesta novella della seconda giornata Neyfile parla proprio della differenza fra natura e fortuna delle due forze appunto che amministra del mondo quanto piuttosto che la fortuna si diverte a nascondere le qualità migliori degli esseri umani sotto condizioni sociali inferiori basse l'esempio per eccellenza è quello di Cisti Fornaio Cisti Fornaio è una persona siamo nella sesta giornata terza novella diciamo caratterizzata da un'intelligenza straordinaria da una finezza di spirito però fa il Fornaio poveraccio quindi dice Boccaccio è messo dalla fortuna dalla sorte in una condizione economica che non corrisponderebbe secondo lo stereotipo tradizionale alla qualità intellettiva perché alle spalle abbiamo sempre un'idea di maschile in cui la la superiorità intellettuale la presenza di spirito la capacità si pone diciamo in rapporto a una nascita nobile generalmente e invece dice Boccaccio non è così quindi Boccaccio spinge verso un maggiore potremmo dire utilizzando un termine proprio realismo anche se non è bene utilizzare questo tema per Boccaccio però uno sguardo più attento a quella che è la realtà circostante dice molto spesso esseri spiritualmente elevati si trovano in condizioni economiche disagiate e però avviene qualcosa che scopre il peccato della fortuna quindi fa capire invece quanto questi soggetti siano determinati di una profonda intelligenza che cos'è che lo fa scoprire la capacità di utilizzare la parola quindi Cisti Fornaio fa una battuta al marchese che viene da lui a chiedergli del vino con una botte invece che con un fiaschetto e lui gli dice non è questo vino da botte è vino da fiaschetto cioè è vino che è talmente pregiato che se ne beve poco non si regala a mari e ondate con una battuta gli fa capire che come dire la sua la sua presenza di spirito è nettamente superiore alla condizione sociale in cui si si trova quindi dice gli dice al servo che viene a prendere con questa botte il vino il tuo padrone non ti manda a me ti manda ad Arno cioè non ti manda a prendere il vino a me ma ti manda a prendere l'acqua al fiume perché questo vino è troppo pregiato per essere e il marchese comprende e loda lo spirito di Cisti Fornaio quindi ecco è la battuta di Cisti che consente al nobile di comprendere la finezza spirituale l'intelligenza spirituale di Cisti e da l'ora in poi di considerarlo per quello che è cioè un uomo di valore la parola consente di manifestare la propria reale identità e la fortuna che avrebbe voluto nascondere questa capacità di Cisti invece in questo modo viene manifestata attraverso appunto la parola che è elemento estremamente importante terzo nucleo quindi questo era per diciamo vedere se Boccaccio utilizza il termine di fortuna in maniera tradizionale in modo diverso se esiste questo termine questo concetto di destino nel corso del testo quali sono le forme per caso per sorte avventura avventuroso che viene utilizzato di più avventura è quello che viene utilizzato in maniera più corposa a questo punto cos'è l'avventura dunque se io devo leggerla dal punto di vista dell'identità dei soggetti che cos'è l'avventura terzo nucleo del libro è una disamina di tutta una serie di novelle di quelle che sono tradizionalmente considerate le novelle di avventura quindi tutte le novelle della seconda giornata tutte le novelle della quinta giornata alcune della nona e della decima e come dire con un concetto di avventura che cerca di prendere in considerazione tutte le sfumature con cui i termini legati a questo nucleo semantico vengono utilizzati quindi caso quindi sorte quindi peripezia eccetera eccetera e questa terza parte ha un titolo un po' provocatorio diciamo così che si chiama che è l'avventura un tema queer perché un tema queer perché l'avventura fa esattamente questo cioè prende un soggetto che vive una tranquilla vita normale tra virgolette normale naturalmente cioè che tale rispetto agli standard del personaggio che viene rappresentato improvvisamente gli rivela che la sua identità quella che lo fa stare tranquillo la sua soggettività non è buona non è valida per la situazione in cui viene gettato e lì deve far fronte deve essere come si può dire disponibile ad una serie di mutazioni una serie di adattamenti a capire come diciamo interagire con la casualità che ha di fronte e quindi si modifica si muta quindi l'essere umano in questa visione che riesce a superare diciamo le sorti avverse le peggiori sorti che possono capitare è l'essere umano che è in grado di adattare la propria identità alle mutazioni che la condizione richiede quindi essere mobile per questo che l'avventura è queer perché costringe appunto a cambiarsi radicalmente e profondamente a volte anche a volte anche nelle modalità molto più vicine a noi con cui intendiamo queer cioè alcuni soggetti femminili sono costretti a travestirsi da maschio quindi ad assumere un'identità maschile per poter continuare per poter sopravvivere proprio alla condizione in cui vengono messi dalla fortuna forse l'esempio più più eclatante più significativo è quello di Madonna Zinevra che sarebbe la nona novella della quinta giornata della seconda giornata chiedo scusa cosa succede a Madonna Zinevra intanto siamo in un ambiente mercantile e questo è un elemento straordinariamente importante abbiamo un gruppo di mercanti quindi tutti uomini che viaggiano le mogli sono state e le compagnie e le amanti sono state lasciate a casa e si trovano attorno ad un fuoco e cominciano a vantarsi ognuno delle proprie vicende amorose di chi ha una moglie più virtuosa dell'altra eccetera e un soggetto che si chiama Ambrogiuolo afferma io per parte mia affermo che non esistono donne fedeli tutte sono infedeli uno degli altri mercanti che invece Bernabò afferma no mia moglie Zinevra per come io la conosco è la donna più fedele che io conosca non solo e questo è un elemento importante non ha soltanto le caratteristiche del femminile tradizionale è una buona moglie è una buona madre si dedica la cura delle persone all'amministrazione della casa non ha solo questo anche delle qualità maschili è capace di allevare i cavalli di allevare gli uccelli di occuparsi della mercanzia questo tipo di donna nuova rappresenta Zinevra di cui noi storicamente sappiamo l'esistenza perché sappiamo che ci sono molte donne di mercanti che aiutavano il proprio consorte nell'espletamento della propria attività mercantile a volte conducendo anche l'azienda quando il marito era in viaggio quindi diciamo è già un soggetto femminile che ha in sé elementi potremmo dire con cui la società contemporanea declina tanto il maschile quanto il femminile e allora Ambrogiolo dice facciamo una scommessa io ti dimostro che anche tua moglie non è fedele e che cosa fa cerca in ogni modo quando il marito è lontano di conquistare Zinevra ma Zinevra non cede venivamenti allora cerca di vincere anzi vince la scommessa con l'inganno penetra nella camera della donna di notte vede nota alcuni elementi anche sul corpo di Zinevra il fatto che aveva un neo che potevano avrebbero potuto dimostrare l'intimità sua con la donna e li dice al marito quindi il marito che cosa fa si convince che effettivamente anche Zinevra ha ceduto alle lusinghe di un altro uomo questo perché perché Bernabò naturalmente avvicina il modello della moglie al modello standardizzato stereotipato e quindi impone al suo servo di uccidere la moglie qui naturalmente c'è un elemento fiabbesco che conosciamo benissimo il servo non uccide la moglie perché se ne se ne come si dice impietosisce e Zinevra fugge vestita da marinaio quindi si trasforma c'è un passaggio molto bello nella novella in cui noi assistiamo proprio alla trasformazione fisica di Zinevra che è Zinevra che si taglia i capelli si fascia il seno taglia le proprie vesti i propri abiti sappiamo quanto è importante l'abito per rappresentare l'identità nel medioevo secondo i farsetti che vestono i marinai e va alla volta diciamo dell'oriente per sfuggire appunto al marito non non concludo la novella così chi mi ascolta avrà la curiosità di andarsela a vedere però quello che noi sappiamo è che come dire Zinevra rappresenta una mobilità identitaria cioè è in grado di salvarsi si salverà naturalmente riuscirà anche a smascherare l'ingannatore ma vedrete come grazie alla sua malleabilità cioè alla sua capacità di trasformarsi soggettivamente e quest'idea del travestimento è diffusa moltissimo nel decamaro i personaggi hanno necessità di travestirsi per sottrarsi alla possibilità ai rischi di trovarsi in terre straniere per esempio di non parlare la lingua e via dicendo quindi effettivamente l'avventura nel decameron rappresenta come dire un insieme di azioni di diciamo agite da soggetti che sopravvivono a volte agli elementi al scatenarsi negativo della fortuna e delle peripezie perché hanno la capacità di abbandonare l'identità di partenza e di modificarsi in base alle necessità che ha di fronte l'industria umana vince sulla fortuna sul caso sulla sorte perché è capace di adattarsi e resilienza noi oggi useremo questo termine forse a una resilienza innata per adattarsi alle cose e come fa Boccaccio a sottolineare questo secondo lui è il portamento identitario più giusto cioè quello di essere pronti ad esporsi alle mobilità identitarie al cambiamento identitario mette sempre alla fine della novella un elemento di arricchimento del personaggio sia materiale perché magari si ritrova più ricco più felice si trova finalmente sposato con la donna o con l'uomo che avrebbe voluto non è soltanto questo ma è anche la capacità proprio sottolinea abbiamo detto nel caso di Federico l'avevo proprio detto ho usato l'espressione miglior massaio fatto nel caso di Andreuccio da Perugia per ricordare un altro esempio con un rubino di valore molto superiore economicamente alla ricchezza di partenza in alcuni casi con una condizione sociale migliore di quella di partenza quindi c'è sempre un premio qualunque questo sia che sottolinea come quello sia il comportamento giusto e l'ulteriore riprovo è data dal fatto che nella quarta giornata che è la giornata diciamo a fine tragico la morte i suicidi di tutti i personaggi sono determinati dall'incapacità proprio dei soggetti di adattarsi alle situazioni che si trovano davanti cedono alla disperazione invece di provare a reagire assumendo un'identità differente quindi diciamo in qualche modo non abbiamo certamente rivoluzionato l'interpretazione delle novelle d'avventure o di peripezia chiamiamole così nel decamero ma abbiamo compreso che un elemento costitutivo fondamentale è questa riflessione sul fatto che l'umanità deve avere per ottenere diciamo così una ricostruzione della società deve avere una capacità di mobilità e di adattamento che consente di progredire e di migliorare nel percorso umano quindi tutto il decamero in qualche modo perché questo poi è verificabile con degli scarti in veramente tutte le novelle sta anche a dirci che la condizione umana non è soltanto una condizione di caducità di morte ma è anche una condizione che può ricontrattare di volta in volta ristabilire di volta in volta quella che è l'esperienza il vissuto più importante per proseguire nella propria costruzione ecco l'idea di fondo è un pochino questa e spero insomma di essere in qualche modo riuscita a renderla è la resa molto bene la resa davvero bene e molto interessante quindi io come mia abitudine invito tutti a correre in libreria e per questo motivo ricordo il titolo del libro il libro si intitola Umana Cosa approssimazioni di genere al decamerone appena pubblicato da Giulio Perrone editore e ovviamente scritto da Monica Cristina Storini che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradita ospite e che io ringrazio tantissimo grazie a voi grazie a voi di cuore e a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove oltre a questa trovate tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi grazie ancora e a presto grazie a tutti Grazie per la visione!